Com'è andata basket? Bene. Sofia, ma cosa ti interessa a te dello sport del tuo fratello? Non è uno sport per le femmine. Vi è libera. Cosa ti hanno insegnato oggi a danza? L'equilibrio. Ora basket. Allora per fare i passaggi devi intanto come sempre palleggiare, poi passi così. Ok. Allora per fare i passaggi. Palla! 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 Posso giocare con voi? No, non puoi giocare con noi. Sei una femmina. Ridammi la palla. Dai, passami la palla. Allora per fare i passaggi. 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 Poma quanto tempo ci mette ste gavi. You're a bad dog Very bad dog You're the worst dog in the world